Dopo aver avviato il bando relativo all'affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado della città di Brindisi, il Comune provvede anche a pubblicare l'avviso con modalità e termini per l'iscrizione o riconferma lo stesso servizio per l'anno scolastico 2024-2025. Le domande di iscrizione da parte delle famiglie interessate al tempo pieno potranno partire dal prossimo 3 aprile fino al 21 giugno, in via esclusivamente telematica o tramite app. Gli utenti che invece non dispongono di strumentazione informatica potranno regarsi presso gli uffici dell'ente il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.00. Nonostante un prevedibile aumento unitario del prezzo a base d'asta del singolo pasto, che passa da 4,27 euro a 5,52 euro, IVA inclusa, a causa dell'aumento dei costi di produzione delle materie prime, dei trasporti ed energia, da palazzo di città fanno sapere che però non si intende modificare all'insù i ticket a carico delle famiglie. Dunque il costo al momento dovrebbe restare lo stesso pagato fino a quest'anno. 1 euro per il primo figlio, 80 centesimi per il secondo per le famiglie con un'ise da 0 a 4.000 euro. 1,50 euro per il primo figlio ed 1 euro per il secondo per chi ha un reddito da 4.000-8.000 euro. Da 8.000 euro a 12.000 euro si pagherà 2,50 euro per il primo figlio e 1,50 euro per il secondo. 3,20 euro per il primo figlio e 2,20 euro per il secondo per le famiglie con un'ise da 12.000 euro a 20.000 euro. Chi supera i 20.000 euro? 3,93 euro per il primo figlio e 3 euro per il secondo. Intanto alla ditta Serenissima Ristorazione S.P.A. di Vicenza, che svolge il servizio dal 2018 con la somministrazione di circa 300.000 piatti l'anno, scadrà il contratto il prossimo 6 maggio. Il Comune ha già pubblicato il nuovo bando. L'importo annuo previsto dell'appalto ammonta ad oltre 1,50 milione di euro, compreso IVA. L'affidamento del servizio avrà una durata di tre anni, con possibile rinnovo per altri due e l'importo totale presunto si aggira a torre a 5 milioni di euro più IVA. Si arriverà invece ad oltre 8,50 milioni con l'eventuale rinnovo biennale.